Siamo qua a Quarciola, il casificio sociale dove viene prodotto il parmigiano reggiano di montagna e in questa zona c'è sia l'allevamento che la lavoratura, un piccolo negozio dove potete acquistare i prodotti. Questa è tutta la lavorazione di stamattina, questa. No, stamattina abbiamo fatto il picciocco. Con la pressione del peso della forma viene stampata sullo formaggio dove c'è matricola del casificio, il nostro bullino c'è, invece di là ho una fermentiera dove ha la sua curva decilità forzata. Diciamo così, vecchio. Il 36 mesi ha vinto quest'anno il premio come miglior parmigiano di montagna a livello nazionale e quindi è stato anche candidato al World Cheese Awards che è a Londra e quindi ha vinto il premio come miglior formaggio del mondo.